I lavori di riqualificazione di Piazza Vittorio Veneto e Piazza Nasseria inizieranno nel mese di settembre. Lo dice ai nostri microfoni il primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola, sottolineando che la somma necessaria, pari a 265 mila euro circa, è già disponibile in bilancio quale residua di tre vecchi mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti. Diciamo che non è da oggi che abbiamo immaginato un piccolo restyling del centro cittadino. Credo sia necessario di poterlo fare. Piazza Nasseria ormai è diventata un'area sottoutilizzata proprio perché doveva essere il centro della nostra città dove abbiamo il monumento dei caduti e lì doveva essere il centro. Però questa, come dire, nel tempo, questa usura che si è determinata proprio per effetto del tanto che è passato, certamente l'ha resa poco utilizzabile, stesso ragionamento per il corso e quindi penso che i commercianti sono rimasti contenti di verificare non solo la possibilità di implementare in termini di arredo urbano il centro, di arricchito di fiori, di alberi e credo che sia un fatto assolutamente positivo. L'abbiamo fatto recuperando i residui dei vecchi mutui che abbiamo utilizzato. Avremmo già cominciato i lavori e il progetto, se avessimo in tempo, la possibilità di utilizzare i residui ma sapete che i bilanci dei comuni sono ancora bloccati quindi da qui a poco potremo anche avviare tutte le procedure che serviranno. Nei giorni scorsi si è parlato anche di un problema riguardo alla sovrintendenza. Il tipo di progetto non necessariamente ha tutti i pareri, noi l'abbiamo inviato alla sovrintendenza che può chiedere le modifiche, non è che lo può bocciare perché sono piccoli interventi io penso che settembre e ottobre i lavori cominceranno, in modo da dare un segnale e ci auguriamo di farlo per il Natale perché la nostra aspettativa è tornare, fare l'estate la migliore possibile sperando che la pandemia non ci colpisca, noi stiamo andando bene per la finatura per il momento e sperando di poter fare un Natale e poi un Carnevale, quindi cominciare l'anno nuovo con una nuova slancio, una nuova volontà di fare le cose e quindi per quell'occasione vediamo di inaugurare anche il nuovo centro cittadino. Grazie a tutti.